Un saluto agli amici del blog ilmonti.com. Da quando la Lega Nord ha fissato l'obiettivo di trattenere il 75% delle tasse in Lombardia e nella futura macro regione del Nord, si è scatenata la controffensiva dei tromboni di professione. La difesa dei detrattori si schierata geometria variabile. Tutti terrorizzati hanno suonato la chiamata alle armi generali. Buon segno, diciamocelo, perché significa che siamo sulla buona strada. Ma quali sono le posizioni in campo? Proviamo un po' a delinearle. Ci sono gli scettici. Diciamo che questi sono i meno fantasiosi del gruppo, quelli che nemmeno si sprecano di abbozzare una posizione contraria più o meno argomentata. Sono spocchiosi, sono arroganti e si limitano a liquidare la nostra proposta con un semplicistico non si può fare. Beh, a cosa rispondiamo a questi? Perché la Lombardia non può chiedere di trattenere per il 75% delle tasse versate quando altre regioni già lo fanno? Anzi, forse fanno anche di più. E il nostro punto di riferimento non è tanto la regione Sicilia, che trattiene nelle proprie casse, meglio sarebbe chiamarle forzieri, addirittura il 100%. I risultati però, diciamolo, sono poco invidiabili. Noi guardiamo al Trentino, per esempio, capace in un periodo di crisi economica come questo di aiutare addirittura le proprie imprese, e stimolando e generando un fenomeno di immigrazione imprenditoriale. Sempre più numerose sono poi le imprese del Nord, che spostano le proprie attività in Carinzia, in Polonia, in Romania, in Svizzera. Questa si chiama competizione territoriale. E è sotto gli occhi di tutti che a queste condizioni noi non rappresentiamo più un'opportunità. Ci sono poi quelli che io chiamo i Garibaldini. Tra i Garibaldini si annovera anche il candidato del centro-sinistra alla guida della Regione Lombardia, Umberto Ambrosoli, che qualche giorno fa ha sentenziato, con toni, devo dire, allarmistici, che questa proposta della Lega di tenerci il 75% dei nostri soldi significherebbe una sola cosa, la secessione del Nord. Insomma, colui che si candida a rappresentare i Lombardi, e Dio ce ne scampi, considera ineludibile lo stato di sfruttamento dei suoi concittadini. I Lombardi sarebbero costretti, a questo punto sarebbe meglio dire che sarebbero condannati, a pagare i conti di uno stato inefficiente, sprecone, assistenzialismo, assistenzialista, appena lo sfascio. Risposta? Beh, il tessuto produttivo del Nord si sta già depauperando, con una velocità, devo dire, spaventosa. Ogni giorno chiudono delle imprese, e se non si interviene subito, il gettito non sarà più garantito dal Nord, ma non tanto per una forma di egoismo, ma semplicemente perché qui si esaurisce alla fonte. Ma allora dobbiamo pensare che muoia Sansone con tutti i filistei? No, grazie. Noi crediamo che il 25% che proponiamo di devolvere allo stato centrale rappresenta una quota sufficiente a garantire un corretto sistema di solidarietà nazionale. Il resto, diciamocelo, è spreco. Ed infine arriviamo alla categoria degli UFO. Beh, devo dire che questa è la categoria più stimolante, di cui, tra l'altro, Mario Secchi, dopo la sua stupefacente performance alla trasmissione di Lily Gruber, otto e mezzo qualche giorno fa, ne è diventato il capitano, il leader indiscusso. Cerco di farla breve perché si entra in un terreno che sta, devo dire, al confine tra l'assurdo, il metafisico e il trattamento sanitario obbligatorio. La tesi degli UFO è questa, o meglio dire, sarebbe questa. La ricchezza del Nord è prodotta in gran parte sul mercato italiano, che comprende anche i consumatori del centro-sud. Quindi sarebbe scorretto che il Nord drenasse per sé parte delle tasse che sono frutto di utili generati anche grazie ai consumatori del sud. Addirittura si dice il Nord a conti fatti, quale conti è difficile capirlo, rischierebbe di perderci. Ora, fate un respiro profondo, mantenete la calma e cerchiamo di rispondere anche a questo. In premessa va chiarito che la nostra proposta non prevede né l'istituzione di Dazi né tantomeno tentativi di autarchia economica. Ammesso non concesso che risponda ad una qualche logica fiscale, tentare di ripartire il dato del gettito a seconda della residenza del consumatore, è tutto da dimostrare che il mercato più importante con più capacità di spesa sia il centro-sud. Ad occhio e croce, ma anche qui, il centro-Nord rappresenta il mercato più forte. E questa teoria applicata a questo punto anche all'azienda del centro-sud, probabilmente tenderebbe addirittura ad annullarsi. Bisognerebbe fare i conti. Piccola nota. Naturalmente nessuno in questi anni ha mai paventato questo ragionamento nei confronti delle attuali regioni al statuto speciale. Ma c'è di più. Se avesse senso un ragionamento di questo tipo, dovremmo rivendicarlo anche nei confronti delle altre nazioni. delle altre nazioni europee e su parte degli utili prodotti dalle loro aziende. Naturalmente quelle che non hanno una stabile organizzazione in Italia. Facciamo qualche esempio. L'Italia rappresenta il sesto mercato per la Germania e il secondo per la Francia. Quindi anche loro dovrebbero contribuire a pagare, per esempio, gli stipendi dei nostri forestali, dei lavoratori socialmente utili o le false pensioni di invalidità. Pensate a quanti formaggi o vini francesi, per esempio, siamo costretti a comprare nelle loro grandi catene di supermercati. Potremmo invitare a questo proposito Mario Secchi, che ora nella nuova veste di politico, a chiederne conto alla Merkel e a Hollanda. Guardate, dovesse mai accadere? Io prenoto subito un posto in prima fila. Occorna la mano questo spettacolo. Non me lo voglio perdere. Un saluto agli amici del blog ilmonti.com. Alla prossima.